... ... ... ... Esatto, tutto bene, allora sì, effettivamente sono qui da Biodomus in Fiera dove insomma c'è uno degli stand forse più importanti di questa fiera. Allora, Biodomus che fa praticamente di tutto, uno deve ristrutturare chiavi in mano, un appartamento o deve proprio arredarlo, può farlo attraverso voi. Allora, raccontaci qualcosa e poi dimmi anche se c'è qualche promozione particolare per gli ascoltatori di Radio Millennium che stanno ascoltando in questo momento e non sono anche quelli che vi raggiungono qui in Fiera. Buonasera a tutti, noi siamo i ragazzi di Biodomus e con la nostra azienda da anni proponiamo una soluzione chiave in mano, noi abbiamo la possibilità di progettare tutti i vostri spazi e arredarli al meglio. Siamo in grado di ristrutturare il vostro bagno oppure realizzare i vostri sogni costruendo la vostra casa e tutti i vostri progetti. Con la fiera siamo in grado anche di farvi uno sconto per quanto riguarda tutta la sezione delle nostre funeture. Ok, una cosa, una curiosità, visto che voi siete sul mercato da tantissimi anni, vi conoscono praticamente tutti, ma c'è qualche realizzazione che avete fatto in questi anni un po' bizzarra, un po' particolare? Sì, ce n'è una in particolare, una casa sul lago a Comabio, una casa molto particolare che è stata personalizzata con delle finiture che rappresentano tutti i viaggi che ha fatto la nostra cliente, diciamo, zero per il giorno. Fantastica, un'idea strepitosa. Bene, sono contento di essere qui e di aver visitato lo stand di Biodomus, tra l'altro ci sono anche degli arredi, degli investimenti molto eleganti e molto belli che consigliamo, insomma, per chi magari deve ristrutturare casa o deve acquistare una casa, deve entrare, deve fare magari qualche ritocco, di passare da Biodomus perché ci sono delle soluzioni molto belle, di prestigio, con dei prezzi, insomma, accessibili. Tutto personalizzato. Tutto personalizzato e poi se chiuderete magari qualche accordo qui in Fiera ci sarà un ultimo risconto. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie.